Dr. Glass, lo specialista dei vetri dall'auto al tir, è sempre più all'avanguardia per professionalità e servizio. Grazie ai nostri tecnici specializzati, tutti gli interventi, dalla sostituzione dei cristalli alla riparazione del parabrezza, all'oscuramento dei vetri, diventano rapidi e garantiti 12 mesi. Dr. Glass sostituisce gratuitamente il vostro nuovo parabrezza anche in caso di ulteriori rotture. Interveniamo anche a domicilio su ogni tipo di mezzo e offriamo un'auto sostitutiva in caso di necessità. Solo i migliori possono tanto. Dr. Glass sulle pagine gialle alla voce carrozzeria.